In contatto telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo di questo fine settimana, ci puoi aggiornare sulla condizione attuale del tempo? La Campania rimane esposta ad un afflusso di correnti umide di origine atlantica che rinnovano condizioni di nuvolosità anche diffusa associata a locali precipitazioni sparse che andranno a chiudere questo mese di novembre, il quale è il risultato tra i più piovosi degli ultimi 30 anni. Una nuova perturbazione sta per fare il suo ingresso sulla nostra penisola, ma non interesserà la nostra regione grazie alla sua traiettoria che risulterà più occidentale rispetto alle precedenti. Sulla Campania registreremo un tempo variabile con maggiori schiarite rispetto agli annuolamenti. Come si svilupperà invece il tempo per i giorni di sabato 30 e domenica 1 dicembre? Per sabato 30 novembre avremo condizioni di cielo poco nuvoloso in prossimità della costa, mentre qualche addensamento potrebbe ancora insistere lungo la dorsale appenninica, dove potrebbe manifestarsi qualche debole piovasco. Ma la tendenza sarà per un miglioramento. Temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli settentrionali e mare poco mosso. Domenica 1 dicembre ricordiamo che avrà inizio l'inverno meteorologico, una data convenzionale che anticipa di circa 20 giorni quella astronomica, che quest'anno cade il 21 dicembre. Per domenica, dicevo, avremo condizioni di nuvolosità variabile con ampie schiarite ovunque. Temperature stazionarie, venti da deboli a moderati da sud e mare da poco mosso a mosso. E per la prossima settimana cosa puoi dirci? Tempo discreto anche nella giornata di lunedì, mentre un peggioramento potrebbe subentrare tra martedì 3 e mercoledì 4, a causa della risalita di un vortice depressionario dal Nord Africa. Peggioramento che sarebbe preceduto da correnti molto miti di estrazione africana. Ma per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it Grazie a tutti.